Ecco, ci troviamo al Residence Ristorante Pizzeria Eden di Mozzagrogna per la cena sociale di fine stagione agonistica 2017-2018 della Virtus Castel Trentano. Qua c'è il gruppo degli allievi giovanissimi che si dilettono pure all'altalena, come piccolini, fanno un po' sparsi. Ecco, mo' porta la pizza ragazzi, sedetevi va. Stanno rioccupando i posti, qua c'è la sala, salano i genitori dirigenti. Ciao Giovanotto, buon appetito a tutti. Allora, vediamo qua, i piccolini stanno sparsi. Tutto pieno, la sala. Allora, in tutto il caldo. La vita. Alla prossima ripresa.